Al comandante provinciale, ingegner Corrado Romano, procedono alla deposizione della corona di fiori. Comando provinciale, vigile del fuoco d'imperia, reparto in servizio di soccorso. Vigile del fuoco, del comando d'imperia. Vigile del fuoco, del fuoco d'imperia, caduti in intervento di soccorso. Panottone Alberto, Fredazzi Giovanni, della morte Publio, Guglielmo Agostino, Piccone Bernardino, medaglia d'oro al valore civile, vizieri Bernardinelli.